Ben trovati a tutti. Oggi tratteremo un nuovo tema, la diagnosi da coronavirus. Tampone, tampone molecolare, tampone rapido, test sierologico, ma quanta confusione. Allora, cos'è utile per arrivare ad una diagnosi? Sono tutti utili, ma hanno dei target diversi. Il tampone molecolare è il tampone che viene effettuato all'interno dei laboratori analisi delle ASL. È il tampone di riferimento e ha delle tempistiche per essere analizzato, dalle quali non si può prescindere. Sono tempistiche lunghe, di ore. Ecco il motivo per cui il risultato di un tampone eseguito oggi arriva dopo uno o due giorni. È purtroppo la tempistica di analisi, però è il tampone il nostro metodo diagnostico di riferimento. Si dice gold standard, cioè è il nostro standard d'oro di riferimento, perché ha una sensibilità e una specificità elevatissima per il coronavirus. Ovviamente tutte le ASL e tutti i dipartimenti di igiene e prevenzione si basano su questo per fare la diagnosi e imporre l'isolamento. Ma viste le tempistiche e il dilagare di una patologia come questa infettiva, ovviamente sono necessarie nuove tipologie diagnostiche. Una tipologia diagnostica è il test rapido. Abbiamo il tampone nasofaringio, che viene eseguito alla stessa maniera del tampone molecolare, che a tutti gli effetti non è altro che un cotton fioc. Ora vi mostro. Questo, un cotton fioc un po' più lungo, che viene inserito nelle narici e a livello orale, quindi in profondità, a livello dell'ugola. Ci permette di capire se abbiamo il virus oggi. Qualsiasi tipologia di tampone, sia il tampone molecolare che il tampone test rapido. Ci dicono se abbiamo il virus oggi e se siamo contagiosi oggi. Ovviamente hanno delle tempistiche questo test rapido. Si chiama rapido perché in 10 minuti ci permette di avere una diagnosi, che spesso viene inserita su dei test tipo questi, che sono dei test qualitativi, come ad esempio quello della gravidanza. Una lineetta negativo, due linee positivo. Quindi ci permette di avere già uno screening, che ovviamente 10 minuti di tempo rispetto alle ore di analisi del tampone molecolare hanno ovviamente una differenza di sensibilità. Ha una sensibilità un po' inferiore rispetto a quella del 98%, che è il tampone molecolare, ma per uno screening immediato è sufficiente. Quando fare il tampone rapido? Quando ad esempio ho dei sintomi e devo capire se immediatamente isolarmi? Oppure quando ho avuto un contatto stretto con una persona e quindi ho il serio dubbio di poterlo avere e voglio appunto proteggere chi mi è attorno e avere quindi l'idea se ad esempio aprire un'attività commerciale il giorno dopo o meno a contatto con il pubblico. Allora il test rapido, sì. Invece, cos'è il test sierologico? Il test sierologico ci fa capire se si è avuto in precedenza il coronavirus e quindi valuta la risposta immunitaria del nostro corpo, i famosi anticorpi. Esattamente ci dice se siamo protetti, abbiamo avuto quindi in passato l'infezione, oppure abbiamo un'infezione che è appena passata, quindi negli ultimi giorni, è appena terminata, sempre con lo sviluppo di anticorpi. Nel primo caso, quindi un'infezione pregressa, la copertura è testimoniata da quello che si dice IgG. Nel secondo caso invece, un'infezione recente, il test sierologico ce lo identifica con le IgM. Esistono due tipi di test sierologico. Il test sierologico venoso, quindi il prelievo dal braccio della solita provetta di sangue che viene analizzata e ci dice esattamente i livelli dei nostri anticorpi. Il secondo tipo di test è invece un test qualitativo che si fa su sangue capillare. Anche in questo caso ci dice se abbiamo o meno la protezione. Ma quindi, come avete capito da questa spiegazione, i tamponi ci permettono la diagnosi oggi. Il test sierologico ci permette di capire se l'abbiamo avuta in passato l'infezione e se siamo tuttora protetti. Grazie.